Oggi è una giornata di mobilitazione nazionale delle professioni, voi come ingegneri junior che cosa intendete proporre? Quali sono le vostre proposte da fare al governo? Noi la prima proposta che vogliamo fare al governo è il chiarimento per quanto riguarda il DPR 328-2001 che sta creando grosse difficoltà ai nostri ingegneri junior per poter consigliare il lavoro per quanto riguarda chiarezza sulle competenze. E' uscito da poco una sentenza, la sentenza del Consiglio di Stato che ci ha aiutato tantissimo con rispetto alla nostra immagine come ingegnere junior e intendiamo proseguire avanti in questa battaglia. Ritaliarci è il pezzo che ci corrisponde dentro della società italiana. Lei emana un caschetto, perché? Per la sicurezza, perché noi tramite il nostro lavoro di ingegnere su tutte le opere, tanto pubblica e privata, dobbiamo lottare per portare avanti il progetto sulla sicurezza. Grazie. Grazie.